Attenzione, rischia di ammazzarsi. Se vuole faccio io. Faccio da solo. E se davvero lo chiamassi? Motivi per morire? Non mi sono mai innamorato. La vita è un pesante fardello. Sì, 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 sì. Se non è morto entro una settimana, le ridiamo i soldi. Ti ho ripensato, voglio annullare tutto. Hai firmato il contratto. Ti faccio secco. Morto tra una settimana, o ti ridiamo i soldi? Ho commesso un errore sul lavoro. Non è morto nessuno. Al cinema.